Ciao a tutti benvenuti nel mio canale le ricette di francesi 74 oggi prepariamo insieme cheesecake alle fragole siccome siamo in primavera ne approfittiamo ci sono tante fragole utilizziamo queste quindi faremo un topping con le fragole fresche e poi aggiungiamo anche un pochino di confettura ora vediamo che cosa ci serve i nostri ingredienti per la base ci occorreranno 75 grammi di biscotti secchi 38 grammi circa di burro ammorbidito mezzo cucchiaio di zucchero semolato mentre per la crema ci occorreranno 5 grammi di colla di pesce o gelatina 250 grammi di formaggio spalmabile 125 grammi di panna fresca 50 grammi di zucchero a velo mezzo cucchiaio di succo di limone per il topping alle fragole ci occorreranno 250 grammi di fragole fresche succo di limone un po' di zucchero e confettura di fragole la nostra cheesecake oggi la andiamo a preparare in un modo un po' diverso anziché usare una tortiera normale useremo dei bicchierini quindi qualsiasi bicchiere avete in casa anche ciotolina va benissimo io userò questi allora come prima cosa mettiamo i biscotti dentro il mixer e li sminuzziamo per bene ok ora una volta che abbiamo reso praticamente in farina abbiamo trasformato in farina i nostri biscottini li versiamo direttamente sul burro che io sono andata a fondere completamente nel microonde quindi versiamo qua così e amalgamiamo per bene io ho a disposizione oggi zucchero sepolato bianco possiamo utilizzare anzi forse è meglio utilizzare dello zucchero di canna quindi aggiungiamo un po di zucchero come vi ho detto mezzo cucchiaio e continuiamo una volta che ci accorgiamo che il burro è stato assorbito praticamente anzi completamente dai biscotti possiamo fare le basi quindi prendiamo bicchierini versiamo dentro andiamo a compattare bicchierini dopo aver livellato vedete il biscotto dentro i bicchierini adesso prendiamo le basi le mettiamo in frigorifero e lasciamo riposare 30 minuti adesso dobbiamo mettere a in ammollo la cola di pesce in acqua fredda ricordiamoci poi togliamo dalla panna circa due cucchiai e la teniamo da parte perché poi una volta ammorbidita la cola di pesce dovremo scioglierla nella panna un po scaldata prossima cosa da fare è montare la panna insieme allo zucchero a velo abbiamo detto che avevamo 50 grammi di zucchero a velo per la crema quindi di quei di quei 50 15 li mettiamo nella nostra panna la panna mi raccomando fresca e ben fredda versiamo nella ciotola iniziamo a montare e aggiungiamo piano piano i 15 grammi di zucchero ok abbiamo montato a neve fermissima la panna quindi la amalgamiamo appena appena e poi la riponiamo per il momento un pochino dentro il frigorifero allora sono trascorsi 10 minuti la colla di pesce vedete si è ammorbidita per bene nel frattempo ho scaldato due cucchiai di panna così andrò a mettere la gelatina ben strizzata qui la scioglieremo bene quindi strizziamo bene bene questo cominciamo a metterlo qua ecco mischiamo quindi la colla di pesce con la panna fino a farla sciogliere dunque una volta che ho sciolto vedete come è venuta completamente la colla di pesce nella panna possiamo unirla alla crema di formaggio con lo zucchero ecco qua una volta che si è ben amalgamata sia la gelatina quindi la colla di pesce che con la crema di formaggio possiamo aggiungere piano piano anche la panna mi raccomando ricordiamoci di fare sempre movimenti rotatori dal basso verso l'alto allora una volta che abbiamo amalgamato la panna zuccherata montata con la crema di formaggio anch'essa montata con lo zucchero a velo possiamo unire infine metà cucchiaio di limone la crema è pronta nel frattempo sono trascorsi 30 minuti andiamo a prendere le basi dal frigorifero ecco qua tolte dal frigo sono leggermente opacizzati ovviamente dal freddo adesso dobbiamo andare a riempire ogni bicchierino con la crema ho messo a riposare le nostre piccole cheesecake in frigorifero e nel frattempo prepariamo il topping allora io ho preparato già la mia padella qua davanti puliamo le fragole e le tagliamo a pezzettini mettiamole direttamente nella padella così ecco qua ho tagliato le fragole messe direttamente nella padellina adesso aggiungiamo il succo del limone e lo zucchero e andiamo ai fornelli ecco qua ho messo sul fuoco le fragole col succo di limone adesso dobbiamo semplicemente farlo cuocere circa 5-10 minuti ecco qua il nostro topping è pronto spegniamo il fuoco e lo facciamo raffreddare quindi io ho lasciato in ammollo un altro foglio un altro piccolo foglio di gelatina quindi come ho fatto prima lo vado a strizzare benissimo così con la mano e poi lo metto direttamente dentro la ciotolina c'è un altro pezzettino ok quindi lo metto nella ciotolina e siccome il topping è ancora un po' tiepido dovrebbe sciogliersi la gelatina renderà il topping anche un po' più lucido tolto dal frigorifero le nostre mini cheesecake e adesso posizioniamo il topping fantastico momento wow le nostre mini cheesecake sono pronte dobbiamo metterle a riposare in frigorifero almeno due ore quindi dobbiamo pazientare prima di mangiarle vi ricordo che possiamo decidere sia di fare con queste dosi una cheesecake intera oppure delle mini cheesecake dobbiamo deciderlo noi se vi è piaciuta questa ricetta fate un like se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella di notifica mi raccomando venitemi anche a trovare sul sito www.lericette.francesi74.com su instagram e su facebook e mi raccomando continuate a seguirmi e non perdetevi la prossima ricetta ciao